Uomo sul capo, cambia le traiettorie 16 pompe di benzina nuove di zecca Finalmente possiamo competere con file pieno e pappa Se ci fosse un modo per liberarsi di Flanders, tornerebbe Ma devo ammettere che la scuola mi manca Sinceramente l'esercito non è proprio come me lo ricordavo E' esattamente come me lo ricordavo Desidero tanto tornare Bart, ma non mi pare che Flanders stia per essere licenziato Penso che riuscirò a farlo licenziare, ci sono riuscito con lei Già, ma ti rendi conto che se io tornassi a essere il direttore Lui non potrebbe più essere amici se tu non diventi un bravo studente Questo non accadrà mai Beh, avremo sempre la lavanderia a zettori Ah, già Grazie a tutti Grazie a tutti